Qual è la scala di coma di Glasgow? Il Glasgow Coma Scala, GCS, è uno strumento di valutazione comunemente usato se una persona ha una lesione alla testa, è incosciente o è in coma. È stato sviluppato negli anni 70 presso l'Università di Glasgow, da qui il suo nome. Due specialisti di neurologia, Geramthe Asdale e Brian Yennett, sono accreditati del suo sviluppo. È ampiamente utilizzato nelle strutture mediche di tutto il mondo, sebbene ci siano altri strumenti di valutazione che possono essere utilizzati per determinare anche il livello di coscienza. Ci sono tre cose che la scala di coma di Glasgow valuta per valutare il grado di coscienza e queste sono la risposta oculare, il movimento e la risposta verbale. Punteggi più alti, 15 sono i più alti indicano un maggiore livello di coscienza, e in effetti un quindicenne significherebbe che una persona era completamente sveglia e consapevole. A3 è il punteggio più basso e suggerisce uno stato di incoscienza estremamente profondo. I punteggi in tutte le aree vengono sommati per produrre un punteggio totale. Nella valutazione della risposta oculare, le persone possono ottenere fino a 4 in punteggio. Valgono le seguenti valutazioni. 1. Gli occhi non si aprono. 2. Gli occhi si aprono se il dolore è applicato. 3. Occhi aperti se la persona è indirizzata. 4. Gli occhi si aprono da soli. Nella risposta motoria sulla scala di coma di Glasgow, le risposte sono classificate come tali, non c'è movimento. 2. Il corpo si estende quando viene dolorosamente stimolato. 3. Il corpo si ritira in modo anomalo quando viene dolorosamente stimolato. 4. Il corpo si ritira normalmente in risposta al dolore. 5. Il corpo risponde normalmente dove si verifica il dolore. 6. La persona può muoversi e utilizzare il corpo su richiesta di un medico alzare il braccio, muovere le dita, eccetera. La risposta verbale sulla scala di coma di Glasgow viene valutata nel modo seguente. 1. Non c'è suono verbale. 2. La persona fa suoni che non possono essere capiti. 3. La persona dice cose che non hanno senso. 4. La persona può rispondere alla conversazione ma sembra confusa e non risponde sempre in modo appropriato. 5. La persona parla normalmente con una risposta colloquiale appropriata. È facile capire perché la scala di coma di Glasgow sarebbe utile per valutare adulti e bambini, ma potrebbe non essere così utile nel valutare i bambini che sono prelingua. Esiste una scala di coma pediatrica adattata dal GCS, che può essere invece utilizzata, ed è infatti spesso utilizzata quando i bambini sono feriti o sono ricoverati per continuare a valutare il benessere. Inoltre, non è sempre possibile ottenere un punteggio completamente accurato sul GCS a causa di lesioni o cose come l'intubazione, in cui una persona ha un tubo di respirazione. La lesione facciale può influenzare il movimento degli occhi e le lesioni al corpo, in particolare la paralisi, possono influire sulla risposta motoria al dolore. Una persona con un tubo respiratorio non può parlare, anche se è pienamente cosciente, potrebbe scrivere risposte e mostrare il livello di coscienza in questo modo.